Ciao, sono Federico, ho 25 anni, vengo da Roma e questo è il mio primo film con la Lucas Cazzan. Nella vita normalmente faccio lavoro in una palestra e diciamo che ho iniziato tutto questo come uno scherzo, compilando un modulo e provando a vedere di fare un casting. Ho fatto il primo casting, è andato bene e alla fine sono arrivato qua. Non mi aspettavo niente di tutto quello che ho trovato perché non ho mai fatto film in ambiente erotico e devo dire che è stata un'esperienza bellissima, sia dal punto di vista delle persone con cui ho lavorato, a partire dal regista, all'aiuto regista e agli assistenti, sia proprio a tutto quello che poi è stata la realizzazione di una scena erotica. Quindi spero che dopo di questo ce ne siano altri perché è stata veramente una bella esperienza, divertente e impegnativa perché è sicuramente impegnativa, però stimolante. E soprattutto per la prima volta ho visto quello che c'è dietro a quello che di solito guardavo, quindi vedere che c'è dall'altra parte del film erotico che normalmente guardano.